Grazie mille, oggi è un piacere per avere il sindaco Alpisa per questa presa della Torina e per la presa dei miei parmi. Sono chiesto che qua, nella nostra cittadina, 30 e 20 più grandi artisti della Potigia, da Bello e Grecia, che sono stati selezionati. Ringrazio anche ogni consiglia del Manolo Vittorio, che rappresenta la Potigia e il sistema di grassoio, che le dà la presa e il voto per l'applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.